Lei non conosce il Nunci? No, non mi pare. Il Nunci? Nunci. Nunci. Non esiste un modo per tradurre questa parola. È una rara dote grazie alla quale entriamo in sintonia. È l'intelligenza emozionale. Una dote che non possiedo. Dov'è ora? Al lavoro. Io sono nel fiorfiore degli anni. Questo è certo. Ecco, appunto. Allora, perché menti sempre sull'età? Chi? Porta a termine qualcosa per una volta. No, scusa. Ti lamenti che abbiamo dei segreti? E passi le tue notte in giardino su Skype. Cosa? Spiegatimelo. Non importa. Lascia stare. Ma no, David, aspetta. David! Questo è poetico. Senti, mi è successa una cosa qualche ora fa. Volevo giusto comunicarlo a qualcuno. David. Papà. Starò via per un po'. Scusa, perché? Dove vai? In Corea. Vedere i ciliegi. Ha scritto che veniva. Da quante ore sei atterrato? Tre giorni. Tre giorni. Si chiama Sue, ma so solo questo, nient'altro. Di cosa ti è preso? Cosa mi è preso? Volevo dirti che mi sembra fantastico che tu segua i tuoi impulsi con uno slancio così improvviso. Lo trovo coraggioso e lo mi ha emozionata. Non permettete che la vita passi mentre dormite. Siate affamati, siate folli. Cosa mi è preso? Scusa. 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 Scusa.